Allora, che faccetta stanca che hai? Hai fame? Vuoi andare a mangiare qualcosa in mensa? Fermo! Ah, è tornato! Voglio che te ne occupi tu. 24 ore su 24. No, non ci voglio stare con lei, non ci voglio stare con lei, mi odia! Zitto! Devi stare zitto e mi devi ascoltare. Qui nessuno ti odia e tu non odi nessuno. Hai capito? Lo sai, non sono la persona adatta per questo incarico. Non è un incarico, è un ordine. Nel luogo dove andrete vige la legge del kibbutz. I figli sono figli di tutti e i genitori sono genitori di tutti. Le simpatie e le antipatie non contano. Se non capisci questo non sei pronto a partire. Lasciami! Spogliati e lavori, che pussi come un maiale! Mi devi obbedire! Se non ti spoglio ti butto un acqua tutto vestito, capito? Io lo so perché mi odi! Mi odi perché tuo figlio è morto e io sono vivo invece! Ammazzami! Che cosa aspetti? Ammazzami! Io non volevo che tuo figlio morisse! E non volevo che morissero gli altri bambini! Invece sono morti tutti! Ma che potevo farci io? Che potevo farci? Che potevo farci! Che potevo farci! No, 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 no. No, 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 no. Tu, tu, tu non devi più avere paura, capito? Non dobbiamo più avere paura. Ada, c'è una telefonata per te.